Ciao ragazzi siamo all'Alpe Predasca, in Ticino sopra Campoblegno, partiremo per la Capanna Bovarina, al Lago Retico e per la Cima di Garina. Oggi siamo in compagnia di Emilio, Barbara e Laura. 20 minuti siamo arrivati alla Capanna Bovarina. Pronto a noi l'Adula. Eccola la Cima di Garina. La giornata di oggi mi ricorda molto il mare di nebbia che incontrai quando salì al Pizzo Bogorno, il video lo potete trovare qui in alto a destra. Lago Retico, arrivati! Grazie a tutti! In vetta la Cima di Garina, 2780 metri. Abbiamo lasciato la cresta del sasso Lanzone in prossimità di questo sasso perché era un po' difficile passare e quindi siamo scesi. qui sotto e abbiamo fatto pausa pranzo. La Cima di Garina è quasi sasso Lanzone, poi rimbalzato. Passiamoci sopra con una bella birra. Abbiamo scelto di scendere da un sentiero pericoloso. Vediamo dove ci porterà. Siamo quasi arrivati alla macchina. Va bene dai, il sentiero non è dei migliori ma diciamo che ci stiamo divertendo. Occhio che se è l'ultimo gradino si muove. Siamo quasi, siamo salvi. Siamo arrivati. Finalmente alla macchina.